Buongiorno a tutti, oggi è martedì 23 gennaio e diamo una rapida occhiata a Bitcoin che come vi dicevo aveva la facoltà di continuare a scendere fino a che giorno? Sul grafico daily, lo potete vedere più chiaramente, abbiamo traforato la Kumo e stiamo scendendo facendo l'undicesimo giorno su massimo 11 di ribasso relativo al nostro T settimanale già vincolato a ribasso. Questo video però serve anche a chiunque sia arrivato da poco sul nostro canale, su questo canale che parla di un metodo statistico matematico non discrezionale chiamato analisi evoluta per ragionare di falsi miti su Bitcoin. Il primo falso mito su Bitcoin che si sentiva tanto tempo fa era che l'andamento di Bitcoin fosse direttamente correlato ai mercati americani. Bene, ecco quanto è correlato. Questo è l'S&P 500 che sta provando a fare ancora i massimi assoluti ed è vincolato a rialzo. E questo è il Bitcoin. Sprofondato di 8000, più di 8000 su 48000 fate voi il conto. Non siamo minimamente vicini a questi massimi. Stiamo andando giù con tante candele rosse giornaliere. Questo invece è S&P 500. Candele verdi, spinta, superamento dei massimi. E siamo allargando il grafico sui massimi assoluti. Dicevano che Bitcoin, sempre in discesa, poteva essere accomunabile all'andamento del Nasdaq. E questo però è Nasdaq. Massimi assoluti fatti oggi. Per la precisione no. Devono ancora aprire i mercati. Anzi, stanno per aprire perché questo grafico no, non dovrebbe essere delayed. Però peccato, non lo è. Ma in ogni caso, massimi assoluti fatti. Siamo sui massimi. Mentre invece Bitcoin scende da... quanti giorni esattamente per la precisione? 13 giorni. Aggiorniamo anche qui. Per cui, tutte le volte che qualcuno vi dirà ma guarda, se tu segui l'andamento degli indici americani di S&P 500 o di Nasdaq saprai come si muove Bitcoin? Fategli vedere questo video. Perché non è affatto vero. Ok? E' uno dei tanti falsi miti che mi sono riproposto di smentire nei video che faccio, che sono video di informazioni in cui non vendo assolutamente nulla. ma faccio vedere quanto questo metodo ci possa raccontare determinate cose. Vi davo un target ieri che abbiamo ampiamente raggiunto. Ok? Vi dico che oggi, se non ci saranno raccordi, mi raccomando, se non ci saranno raccordi può essere l'ultimo giorno di discesa e al massimo domani possono fare una spike ma poi rimbalzare. Rimbalzare anche solo facendo un rimbalzo del gatto morto perché abbiamo varie centrature, come sapete. E rimbalzare è per chiudere, che cosa? Un bisettimanale di inverso. Però questo era solo un'anteprima rispetto alla night session che solitamente faccio la sera per ricordarvi che Bitcoin sta scendendo da 13 giorni mentre invece S&P 500 non la smette di salire da più di 56 e stessa identica cosa per il Nasdaq che sta salendo con massimo fatto ieri da 58 giorni. Bitcoin non sta facendo la stessa identica cosa e anzi, come già dicevo ieri, questo potrebbe essere un rimbalzo del gatto morto per ritornare a scendere. E infatti stiamo continuando a scendere. Questo è quanto per cui, se volete approfondire questo metodo basta che andiate sull'unico canale che può parlare di analisi ciclica evoluta analisi evoluta a marchio registrato, tra l'altro andare su playlist farvi un bellissimo corso chiamato Training Days che per ora è ancora gratuito, fatto da altre 31.000 persone e poi eventualmente, se avrete piacere sto organizzando eventi con Swiss Quote per cui farò un evento live a Torino a metà aprile, probabilmente il 19 per cui se volete venire ad ascoltare qualcuno che parla in maniera tecnica e senza essere un appassionato che vi dirà sempre to the moon qualcosa di Bitcoin potrete passare a un evento gratuito di Swiss Quote a Torino e poi ragioneremo anche di altre cose con Ben Pepparibà che vuole rinnovare ovviamente l'accordo di collaborazione e di didattica soprattutto con me e il mio canale direi che è tutto mi raccomando fate ancora attenzione perché di tempo ce n'è ancora per provare a cercare dei minimi ma ricordatevi che mentre gli indici americani che alcuni vi raccontavano che avevano una diretta correlazione con Bitcoin stanno ancora salendo Bitcoin sta solo scendendo da oltre 13 giorni quindi uscite dal parco buoi non fatevi più prendere in giro da chi vi racconta determinate cose e controllate sempre i grafici perché i grafici esprimono molto di più di quello che vi possono raccontare delle persone che vi danno dei target assurdi di rimbalzo dei target fondamentalmente eccezionali dopo la partenza dell'ETF mentre invece qualcuno vi raccontava che poteva essere una trappola per polli purtroppo dove è finito? eccolo qua ok sei giorni fa per la precisione e quindi scegliete se ha senso continuare a sentire gente che parla di sentiment che è noto che non serva assolutamente a nulla per fare trading di psicologia dei mercati piuttosto che di news che muovono i mercati qui hanno approvato qui hanno approvato l'ETF ok oppure se guadagnare come abbiamo fatto noi ieri attraverso l'analisi ciclica evoluta a voi la scelta ok evento ad aprile con Swissquote dal vivo a Torino segnatevelo buona giornata a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti